Il castello Bufalini a San Giustino in provincia di Perugia è una poderosa fortezza quattrocentesca che contiene al suo interno una residenza signorile cinquecentesca caratterizzata da un'elegante loggia vasariana. L'importanza della villa è confermata dal giardino all'italiana organizzato in modo successivo sugli spalti della fortezza. Nel giardino cinquecentesco riorganizzato nel settecento e restaurato di recente permangono il bellissimo labirinto trapezoidale di Bossi e la ragnaia.